Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Sono state ore di apprezzione quelle di ieri ad Anghiari quando una ragazza di 15 anni era risultata scomparsa. Erano subito scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco di Arezzo, intervenuti nella zona di Tavarnelle di Anghiari con la squadra dei volontari e dei pompieri di Sansepol, con l'unità di comando locale della centrale e il personale specializzato del nucleo di topografia applicata. Le ricerche sono andate avanti fino alla notte, poi intorno a luna la ragazza è stata ritrovata in buone condizioni di salute grazie anche all'impiego della termocamera del drone e proprio dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, al momento non sono noti i motivi di questo allontanamento. Parliamo adesso di scuola, ormai manca davvero poco alla ripresa delle lezioni per la Toscana, come sappiamo sarà il 16 di settembre, ma siamo ancora nel completo caos per l'assegnazione delle nuove cattedre e per le nomine dei nuovi dirigenti scolastici. Ci si trova di fronte ad un caos ferragostano che rientra in quell'eterno ricorso dei malanni italiani insieme alla calura, alle inondazioni e a tutte le altre questioni. È un tormentone che ogni estate torna, le nomine nel mondo della scuola, dai supplenti ai dirigenti scolastici poco cambia, il caos regna sovrano. Si intrecciano e si sovrappongono vari concorsi, addirittura ci sono i vecchi concorsi che iniziati l'anno scorso per docenti per l'immissione in ruolo che devono essere completati e espletati entro dicembre e anche questi influiranno per esempio sulla nomina dei supplenti perché poi i nuovi vincitori di concorso dovranno essere immessi in ruolo. È chiaro che occorrerebbe porre mano a questa situazione con decisione e con coraggio e riformare il sistema di nomina dei supplenti e il sistema dei concorsi. Però questo coraggio al momento non è alle viste. E dunque anche questo anno scolastico inizierà con incertezze e confusione, cattedre che potranno essere assegnate anche a fine dicembre. Io leggo le cronache dei giornali e si parla di docenti in attesa di supplenza che o non fanno le ferie oppure rimangono costantemente in contatto online con l'ufficio scolastico regionale per sapere quali sono le novità. Non è un modo sereno di vita e alcuni di questi futuri supplenti hanno tutte le carte regola per insegnare e magari anche una profonda motivazione. Questa motivazione non deve essere tolta loro. E purtroppo il sistema oggi è così farraginoso, malfunzionante, che si corre il rischio anche un po' di demotivare quei giovani che invece vorrebbero dedicarsi all'insegnamento anche per una vocazione interiore, per un desiderio profondo, intimo. E allora se da una parte c'è appunto davvero tanto caos per i nuovi insegnanti, per coloro che invece si devono ancora formare e quindi diventare proprio un insegnante, c'è una bella opportunità. Sentiamo. Un corso di laurea per formare i futuri insegnanti delle scuole materne ed elementari si terrà ad Arezzo e si tratta di una laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Siena, sede di Arezzo. Il corso di cinque anni è abilitante all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e primaria. Il conseguimento del titolo di studio permette infatti l'inserimento nelle graduatorie di istituto e la partecipazione diretta alle procedure concorsuali per docenti di scuola dell'infanzia e primaria. Sono 150 i posti disponibili e si svolgerà presso la sede di Arezzo, viale Cittadini 33. È prevista la possibilità di fruire le lezioni da remoto anche nelle sezioni formative di Siena, fino a 30 posti, e Grosseto, fino a 20 posti. Le attività formative obbligatorie, come i laboratori, sono previste solo presso la sede di Arezzo. Per l'ammissione alla prova è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o titolo di studio conseguito all'estero dopo almeno 12 anni di scolarità. La domanda di ammissione alla selezione potrà essere presentata entro il 30 agosto alle ore 12 in modalità online. Il test si terrà il 13 settembre a Siena. 140 mila euro dalle risorse comunali, altri 40 mila euro arriveranno da Arezzo, casa, per intervenire nelle case popolari in particolare, quindi con interventi di manutenzione straordinaria, in particolare nel complesso di Via Tortaia ad Arezzo. Un intervento urgente e non più procrastinabile, dice l'assessore alla casa Monica Manneschi, in considerazione dell'estremo deterioramento in cui versa la copertura derivante proprio dalla vetustà e dalle tecniche edilizie degli anni Ottanta, carenti ed inadeguati livelli qualitativi. L'intervento si inquadra tra quelli destinati al sostegno della manutenzione del patrimonio ERP del Comune di Arezzo. I 140 mila euro si andranno ad aggiungere ai già 2 milioni di euro stanziati per gli interventi di Via Montale e Tortaia attualmente in corso. Ci sono buone notizie per i pendolari a rettini, anche se anche quella di oggi è stata una giornata ancora di passione, ma sono però terminati i lavori lungo la linea Firenze-Roma. Si sono conclusi nelle scorse ore i lavori iniziati lo scorso 5 agosto dalla rete ferroviaria italiana per la sostituzione del ponte metallico, il consolidamento e l'impermeabilizzazione del viadotto ferroviario a 11 arcate nel Comune di Lignano sull'Arno. Una buona notizia anche per i pendolari della rettino che in questo mese di agosto avevano dovuto fare i conti con numerosi disservizi. Nelle operazioni sono stati circa 40 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici che hanno lavorato nel cantiere. Dal 20 agosto, annuncia RFI, i treni ripercorreranno la linea tra Pontassieve e Figline-Valdarno sulla linea convenzionale Firenze-Roma. Come prevedono le norme in caso di rinnovo dell'infrastruttura, la piena velocità delle tratte dovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo motivo, fino al 25 di agosto, è comunque previsto un aumento dei tempi di viaggio di 10 minuti già calcolato e visibile sui sistemi di acquisto delle imprese ferroviarie. Dal lunedì 26 agosto, poi, i treni percorreranno nuovamente l'intera linea a piena velocità. Don Marco Baragli non è un prete cattolico e quindi non può concelebrare. La diocesi dice no al sacerdote aretino della Old Catholic Apostolic Church, un caso che aveva incuriosito la città, quello del religioso musicista molto conosciuto nel Regno Unito e che aveva chiesto ad una parrocchia aretina appunto di concelebrare la messa della domenica, scatenando letteralmente un putiferio. Tutto era iniziato sabato 17 agosto con una nota proprio della curia in cui veniva segnalato appunto questo caso particolare. Nelle scorse ore la richiesta di un incontro da parte proprio del sacerdote con il vescovo, incontro che c'è stato, e oggi la nota definitiva che ha appunto messo la parola fine a questa vicenda. L'uomo di fatto non è un sacerdote, l'uomo di fatto, scusate, è un sacerdote, ma non è cattolico. La diocesi quindi lo riconosce, ma non permetterà appunto che concelebri con i sacerdoti della Chiesa Cattolica. Parliamo adesso invece di Saracino. È iniziato proprio in questi giorni il montaggio delle tribune in Piazza Grande in vista della 146esima giostra del Saracino che si svolgerà domenica 1 settembre. La terra dell'Alizza e il ferro delle tribune sono indubbiamente i segni appunto che Arezzo inizia a respirare aria di giostra. E proprio domani torna il Click Giostra Day. Anche per la 146esima edizione della giostra del Saracino in programma domenica 1 settembre alle 17 in Piazza Grande la vendita dei biglietti, come già avvenuto, sarà gestita in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour. All'inizio attraverso il Click Giostra Day che consentirà di prenotare online la possibilità di acquisto dei biglietti. Il form di registrazione sarà attivato mercoledì 21 agosto dalle 15 alle 18 e si potranno prenotare al massimo 4 biglietti. Per il ritiro non saranno poi ammesse deleghe, bisognerà presentarsi con il proprio documento di identità. Una volta conclusa questa vendita, dalle 9 di sabato 24 agosto sarà attivata la vendita libera presso la biglietteria del percorso espositivo I Colori della Giostra. La biglietteria sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 ad esclusione di domenica 25, dalle 13 alle 19 per la concomitanza con l'estrazione delle carriere e con estensione fino alle 21.30 nella giornata di venerdì 30 agosto in concomitanza con la prova generale. Un'altra manifestazione che porta in giro il nome di Arezzo nel mondo è indubbiamente il polifonico Alvia, la 72esima edizione. È un via di 72 anni, però è sempre più ritornata ai vecchi fasti, cioè siamo di fronte a un'iniziativa che è unica al mondo, prima in Europa, e che in questa edizione porta con sé 350 voci la rappresentanza di moltissimi paesi europei e non solo. Quindi Arezzo torna dopo qualche anno di affaticamento, ricordo i primi anni della giunta a Ghinelli, ma dopo l'impegno forte della Fondazione Guide e di tutte le sue articolazioni ad essere finalmente, nuovamente, la capitale mondiale della polifonia. Entra nel vivo il polifonico di Arezzo, il festival corale più antico d'Europa, fino al 25 agosto, concerti, concorsi, convegni e masterclass. La 72esima edizione quest'anno prende vita con la masterclass di Georg Grün, che è questo direttore tedesco col suo coro, che mette a disposizione degli allievi della scuola di direzione e poi sarà anche il coro che inaugurerà mercoledì sera, cioè domani sera, proprio le feste del polifonico che dureranno fino a sabato sera. 350 i coristi provenienti da tutto il mondo, Filippine, Hong Kong, Italia, Germania, Spagna, fino alla Polonia e l'Indonesia. 11 eccellenze della musica corale internazionale che saranno valutate da una giuria di eccezione. Si avvia un'altra edizione che si annuncia bella ricca da tutti i punti di vista, qualità e partecipazione dei cori, un po' da tutto il mondo, dall'Asia, dall'Europa, inizia il momento forse di maggiore fibrillazione di un lavoro che è durato mesi, sono le nostre olimpiadi della coralità, è un concorso, quindi c'è una gara e quindi vi aspettiamo a partecipare a questa gara, è avvincente, viene svolta all'auditorium, c'è una navetta a disposizione e poi chiaramente la serata di canto popolare in fortezza, è il concerto domani sera. Gli eventi sono tutti a ingresso libero, quindi credo che la partecipazione a questa festa sia, mi sentirei di dire, doverosa in quanto aretini, perché insomma questa è una manifestazione mondiale che porta arezzo nel mondo. Dopo il successo del primo concerto, torna giovedì 22 agosto alle 21.15, l'appuntamento con Jets & Wine, la rassegna musicale ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi in collaborazione con l'associazione Jets on the Corner di Francesco Giustini. La rassegna accompagna alla musica, alla degustazione dei vini del territorio, a cura dell'Associazione Italiana Sommelier e Delegazione di Arezzo e dell'Associazione Strade del Vino di Arezzo ed Enoteca Caffè Michelangelo, come dicevamo appunto giovedì 22 agosto. Il primo appuntamento è poi a seguire con i due giovedì di settembre. Sono state ufficializzate le date dell'edizione 2024 del Mercato Internazionale di Arezzo, l'evento organizzato da Conf Commercio con la collaborazione della Federazione Nazionale Venditori Ambulanti. Si terrà da venerdì 11 a domenica 13 ottobre nell'area Eden e zone limitrofe. Oltre 300 gli stand che saranno presenti alla manifestazione di questi 170 saranno stranieri. Come sempre ci sarà il cibo internazionale, appunto l'attrattiva principale sarà proprio quella, ma non mancheranno anche i banchi dell'artigianato e ovviamente del cibo italiano. I 170 operatori esteri verranno da 35 diversi paesi con 5 continenti rappresentati. E siamo allo sport, proprio ieri al Palaestra, il primo turno di allenamento per la SBA che appunto si avvicina alla ripresa del campionato. Da quest'anno è un inizio anche un po' insolito perché c'è proprio da ricostruire una squadra intera, sono solo due di quelli un pochino più esperti che sono rimasti nella prima squadra. Quindi troveremo anche un po' di difficoltà nell'ammalgamare i nuovi giocatori. Devo dirti che però da un primo screening così, visto in dieci minuti, sono colpito anche dalle qualità tecniche che mi avevano ovviamente detto. Quindi sinceramente questa parte qua mi crea meno ansia. Ovviamente, come ho già detto in altre occasioni, la nostra non è una corsa alla vittoria per forza. Dobbiamo fare un buon campionato perché rappresentiamo nella pallacanestro la città di Arezzo. A me non va di fare figuracce. Quindi sicuramente, avendo visto anche i roster degli altri, sinceramente sono abbastanza tranquillo, diciamo. Ovviamente presumo che verremo fuori nella seconda parte del campionato, anche se sarebbe meglio partire subito bene perché è corto il campionato. Quindi, cosa dirti? È un po' difficile anche me perché il lavoro che abbiamo fatto è molto semplice. Nel senso che abbiamo cercato, insieme a Alessio Fioravanti, di avere almeno due giocatori per ogni ruolo, pronti ad entrare in campo senza tante remore. E in più, inserendo quelli che sono il meglio nel nostro settore, giovanile, tranne quelli che abbiamo dovuto dare ad altre squadre, e anche loro devono essere pronti. Questo è il loro anno. Dobbiamo ricostruire un'ossatura retina per forza. Quindi ho già detto a loro che devono dare il massimo, anzi di più, e devono dare proprio fastidio ai titolari. Quindi mi auguro che il messaggio sia stato recepito. Noi siamo fiduciosi diciamo in un buon lavoro. Ovviamente oggi è il primo giorno. Vediamo. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. vi lascio come ogni giorno di agosto con una replica della nostra trasmissione Fattore di Storie di Donne realizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Arezzo Prontodonna. Grazie e buona visione.